Marco Brambilla, PR Head of Community Manager per l'Italia di PokerStrategy.com la scuola professionale di poker e qui ai gaming business nel convegno che dà il là alla partenza del cash game, Casino Games che sono i nuovi giochi, i nuovi business del mercato italiano. Sì, ciao Cesare, siamo qua perché oggi pomeriggio avremo uno spazio per presentare al mercato italiano PokerStrategy Italia come Accademia di Poker ovvero come partner che potrebbe essere il partner ideale per molti operatori del settore poker per il prossimo lancio del cash game e spiegheremo in dettaglio i motivi per i quali potrebbe essere un partner molto importante. Sappiamo appunto l'azione, l'approccio al cash game, passiamo dalla modalità tournament con cui è nato il poker online in Italia e l'approccio al cash game è un gioco totalmente diverso e qual è il ruolo e l'importanza dei poker strategy e gli strumenti che può dare ai giocatori italiani? A questo punto si inserisce poker strategy con il ruolo cruciale di coinvolgere i giocatori al lancio del cash game preparandosi, ovvero studiando materiale didattico, partecipando alle attività della community e assolutamente seguendo quelli che sono i consigli che vengono dati dai nostri coach quotidianamente attraverso anche live coaching, ovvero sessione di insegnamento in diretta dove tutta la community e gli iscritti della community possono confrontarsi e darsi un po' di esperienze condividerle per poter poi accedere con responsabilità perché appunto professiamo appunto gioco responsabile ai tavoli che gli appartengono, ovvero ai tavoli a cui possono e sono in grado di giocare. È anche un ottimo strumento la logica del bankroll management contro la patologia anche del gioco? Assolutamente, i pilastri poker strategy sono sempre stati dalla sua nascita nel 2007 la gestione del proprio bankroll management, quindi saper investire la quantità giusta di soldi in relazione al percorso formativo e in relazione allo status di giocatore che si vuole raggiungere significa che se non hai a disposizione perlomeno 30 buy-in non ti puoi sedere a un tavolo e giocare a quel tavolo attraverso questo pilastro siamo sicuri e possiamo anche attraverso la community diminuire quello che è il problema della ludopatia proprio perché nella fase iniziale di iscrizione al sito di poker strategy se vuoi accedere a un bankroll gratuito che ti viene offerto a poker strategy devi comunque superare un quiz, quindi significa che ti devi mettere prima di tutto nella condizione mentale di apprendere partecipando alle prime fasi della community riesci anche a trovare il tuo percorso formativo ovvero ti sanno indicare quale percorso è migliore per te l'esperienza, la condivisione di queste mani giocate e il postare nel forum e partecipare alla community fanno la chiave di volta per permettere a un giocatore poi di stare tranquillo ovvero di non investire soldi con il rischio poi di cadere appunto in pericoli di ludopatia o di perdita di budget già siete una realtà del mercato italiano per gli utenti però state investendo molto, vi dovete ancora far conoscere dovete dare a tutti gli strumenti in grado per affrontare il cash game quali sono le azioni che state facendo? innanzitutto quelle di informazione cerchiamo di essere presenti sul territorio italiano proprio in questo periodo del lancio del cash game per far conoscere anche i partner delle room italiane che il valore scuola è un valore che non si può escludere all'interno di questo processo di lancio del cash game i prossimi eventi saranno da dopodomani a Malta per partecipare a eventi televisivi sempre nell'ambito di Unplugged questo format televisivo di Peoples e poi successivamente saremo a luglio appunto ad organizzare un evento proprio il giorno del lancio del cash game proprio sul portale di poche strategie settembre, ottobre con Enada, altri eventi live e soprattutto presenza all'interno non soltanto dei media nazionali televisivi ma anche appunto a livello proprio locale quindi all'interno di librerie, di università molto probabilmente da settembre inizieremo un piccolo tour all'interno di spazi universitari presso le facoltà di psicologia e di scienze della comunicazione oltre che di matematica Un'ultima pillola, avete qualche chicca da darci, qualche testimonia, qualche coach nuovo sapevo qualche nome di grandi giocatori italiani che si avvicinano a poche strade Sì, ultimamente stiamo avvicinando grazie anche alle partnership con queste, con le room le nuove room.it tipo Full Tilt stiamo cercando appunto di avvicinare la loro filosofia di gioco molto skillata quindi molto di alto livello alla nostra community per dare un valore aggiunto ai giocatori naturalmente per fare anche da traino per quelli che sono persone che non hanno ancora conosciuto il poker che grazie a questi personaggi diciamo famosi del poker potrebbero conoscere anche poche strategie e valori della nostra scuola però in primis fra tutti che già nella nostra scuderia da tempo è il genio dei tartarughe ovvero Sergio Castelluccio che come sapete è nato e cresciuto all'interno della nostra scuola e ottiene soprattutto nei live dei risultati che sono da tre anni a questa parte molto molto interessanti Assolutamente, buon lavoro quindi Grazie anche a voi, ciao Grazie a tutti